Ultime battute del processo d'appello sull'operazione antimafia Gota 3, scattata tre anni fa con l'arresto dell'avvocato Rosario Pio Cattafi e altri elementi di spicco del clan di Barcellona Pozzo di Gotto. La prossima udienza è fissata al 9 luglio per dare la parola all'accusa. Non sarà ascoltato in aula il pentito annunziato Siracusa. Il collegio difensivo infatti ha detto sì all'acquisizione verbali con le dichiarazioni del pentito depositati nell'ultima udienza dalla procura e ha rinunciato a controinterrogare quello che per sua stessa ammissione era uno dei bracci destri del boss del clan. Le sue dichiarazioni entreranno comunque agli atti del processo. Istruttoria quindi chiusa, si va al prossimo 9 luglio quando salvo altri colpi di scena l'accusa avanzerà alla corte d'appello le sue richieste, confermare o rivedere la sentenza di primo grado. Potrebbe quindi essere alle ultime battute il processo che vede alla sbarra quello che è considerato un nuovo chiame del sistema Barcellona, del quale hanno parlato diversi pentiti e del quale si occupano diverse procure, virsi sui trascorsi a cavallo tra mafia e servizi segreti. Un territorio, quello dei contatti tra gli uomini dello Stato e la criminalità di Barcellona, che proprio in questi giorni è stato oggetto anche di un altro importante processo, quello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Vicenda che passa anche questa da Barcellona, visto che secondo alcuni spunti investigativi, per diverso tempo i dintorni del Longanno hanno dato rifugio al boss catanese Nitto Santa Paola, allora latitante, la cui presenza era forse nota agli investigatori del Ross. Ieri è deposto l'ex pubblico ministero di Barcellona, l'Indo Canali, seguito dal marescello del Ross Giuseppe Sibilia. Tra loro è stato chiesto il confronto per chiarire alcune dichiarazioni che appaiono discordanti in merito ai fatti alvenuti a Barcellona all'indomani dell'omicidio del giornalista Beppe Alfano.